Cosa rappresenta per me questo brano? Innanzitutto un insegnamento. È saper riconoscere i propri errori, ma soprattutto valorizzare le persone che realmente contano nella propria vita. Rappresenta la mia visione del tempo. La spirale che nel suo sfuggire modella costantemente tutto ciò che è intorno a noi, ma anche dentro di noi. È il mio amore della musica. Grazie. 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 Grazie.